Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi in questo video volevo rispondere agli insulti vergognosi che ho ricevuto sotto ai commenti del post partita che ho fatto sabato di Benevento Juve. Video dove mi sono giustamente lamentato dell'ennesima partita che la Juve ha vinto soltanto grazie ai favori arbitrali e in questo video ho soltanto analizzato i vari episodi che ci sono stati nella partita e detto che questi episodi a favore della Juve non andavano fischiati e cioè ho detto la realtà dei fatti. E per aver detto questo ho ricevuto dei commenti davvero vergognosi, ma commenti a dir poco vergognosi, commenti che mi offendevano pesantemente sul personale, commenti che offendevano Napoli, commenti razzisti nei confronti di Napoli e del Napoli e questa cosa poi certifica per l'ennesima volta che il 90% dei tifosi giuventini sono soltanto persone che non ammettono la realtà dei fatti e che sanno soltanto offendere pesantemente sul personale. Ma io sai che vi dico continuate pure ad insultarmi perché voi più mi insultate e io più mi sento fiero di tifare per questa squadra, di appartenere a questi colori e di amare ed onorare la mia terra e la mia squadra come tanti di voi non fate. Davvero vergognosi commenti che ho ricevuto anche da parte di persone adulte. Ce n'era uno che ha anche detto di essere un adulto e lo dici pure, non ti metti manco vergogna di dirlo che sei un adulto e che ti metti a scrivere queste cose. Cioè io davvero non lo so, cioè che poi no, io in quel video non ho offeso nessuno sul personale, ho soltanto analizzato gli episodi che ci sono stati nella partita e ho detto che per l'ennesima volta la Juve ha vinto una partita soltanto grazie ai favori arbitrali ricevuti, questo ho detto. Poi due sono le cose, o avete le fette di prosciutto davanti agli occhi, o siete soltanto degli ignoranti e non riuscite a vedere la realtà delle cose come sta. Cioè io veramente, cioè poi addirittura molti hanno dato a me del razzista, cioè a me del razzista, voi insultate a me sul personale, voi parlate male di Napoli e poi io sarei il razzista, cioè io non lo so. La differenza si vede anche tra le due tifoserie negli stati, per esempio ieri no, la partita Napoli-Chievo, tutto lo stadio a spingere e a sostenere la squadra fino all'ultimo minuto, sembra che davvero quel tiro non l'abbia fatto soltanto di Avarà al novantatresimo, ma sembra che l'abbiano fatto tutti i 45.000 che ieri erano presenti al San Paolo, perché più volte in questi anni la nostra tifoseria, cioè quella napoletana, sta dimostrando di essere tra le tifoserie più civili d'Italia, che va allo stadio soltanto per sostenere e per tifare la propria squadra e non per cantare cori razzisti e tante altre cose. Cioè poi per quello che è successo martedì scorso, quando ha fatto il gol in rovesciata Ronaldo e ci sono stati un po' di persone che lì a Torino hanno applaudito al gol di Ronaldo, tutti a dire, mamma mia, la tifoseria più civile d'Italia, ma dico io no, è vero che noi la società di oggi stiamo davvero inguaiati, ma se la tifoseria più civile d'Italia è quella che ogni domenica augura la morte ad un popolo intero, la tifoseria che ha augurato la morte ad un bambino di otto anni, mi riferisco al figlio di Bonucci, ad una tifoseria che ha preso in giro la squadra del grande Torino che è morta per un incidente aereo e la tifoseria che la scorsa settimana ha fischiato il minuto di commemorazione in onore di Emiliano Mondonico, non stiamo inguaiati, ma di più, cioè io veramente non so che dire davanti a gente che davvero ha delle teorie, ha delle teorie tutte contorte davvero, e poi no, secondo me voi, voi tifosi e la Juve in generale, con lo sport non c'entrate davvero nulla, secondo me andrete eliminati dallo sport, perché la squadra, la società è sicuramente la squadra più sporca del mondo, per aver sporcato per anni il calcio italiano tra calciopoli, doping e Agnelli che collabora con la mafia e poi vi vantate di scudetti di cartone che vincete negli anni con favori arbitrali evidenti, ma poi no, ancora una volta nei commenti ieri ho sentito dire Mertens a Crotone, maronna mi marò, ma voi solo questo sapete dire, ma com'è possibile Mertens a Crotone, cioè che poi no, la nostra onestà si vede proprio in questo, si vede proprio in questo la nostra onestà, perché voi come scusante nei nostri confronti usate sempre lo stesso episodio e cambiate un po', vi siete fatti antichi, sempre sto Mertens a Crotone, allora calciopoli, Mertens a Crotone, semifinale dell'anno scorso contro di noi rubata, Mertens a Crotone, il gol di Montari, Mertens a Crotone, Ronaldo e Giuliano, Mertens a Crotone, illeciti sportivi, Mertens a Crotone, Agnelli collabora con la mafia, Mertens a Crotone, la Supercoppa di Pechino nel 2012, Mertens a Crotone, tutte le partite vinte quest'anno grazie a favori arbitrali, Mertens a Crotone, e che poi vi ricordo per l'ennesima volta che in quella partita a noi di rigori non ce ne hanno dati due, due non ce ne hanno dati di rigori, due, uno su Coulibaly e uno su Albiol, e poi inoltre è stato verificato più volte che quel tocco con il braccio da parte di Mertens non era da punire perché il braccio era nettamente attaccato al corpo, quindi quella non si può per niente definire, scusate, una vittoria irregolare da parte nostra, quindi davvero, davvero vi dovete vergognare, e poi andate trovando che noi dobbiamo tifare per voi nelle competizioni europee, cioè davvero non lo so, noi dopo che ci sentiamo da noi, da voi, augurarci la morte e tante altre cose brutte sulla nostra città, noi dovremmo anche tifare per voi, guardate, no grazie. Quindi ragazzi, in questo video ho voluto sia rispondere agli insulti vergognosi che ho ricevuto e sia, diciamo, spiegare l'odio sportivo che io ho nei confronti della Juve. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!